ciao a tutti benvenuti al mio canale io sono paola e oggi un video un po corto perché volevo farvi vedere un altro prezzo un altro pezzo delle promozioni dei prodotti che mi sono arrivate con le promozioni quindi questi che faccio vedere adesso sono dei premi sicuri cioè se voi comprate uno due tre determinati prodotti di una certa marca vi regalano sicuramente se spedite lo scontrino o lo inviate online un prodotto che può variare da prodotti per la casa prodotti per la persona in questo caso che lo trovate ancora nella mia playlist spazi per la spesa erano i prodotti della sensodine della yodosan e della polident io ho comprato i prodotti della polident ed anche dell'acqua fresh e ho comprato sia quelli dell'acqua fresh che della polident questi che faccio vedere è una così per te l'idea è un 12 centimetri 12 centimetri lavoletto non so se si legge aspettate quasi non si vedrà mai comunque è un 12 centimetri è giusto una padellina per fare le uova per una persona sola era un premio sicuro sapevo che fosse stata piccola sinceramente non pensavo così piccola pensavo un attimino più grande però vabbè va bene va bene può essere magari anche un pensierino per qualcuno adesso vedremo me ne sono arrivate tre perché ho fatto tre partecipazioni prendendo due prodotti della polident ho preso la pasta adesiva per mia mamma quindi vedete sono tre poi se non ricordo male quest'altra cosa vi faccio vedere ho preso gli spazzolini no spazzolini i dentifrici dell'acqua fresh però uno deve essere per forza un dentifricio e questo è la teglia per le crustate a dolce e salato nuovo tipo di rivestimento ed è grande 28 centimetri magari un attimino più l'idea guardate facciamo così dov'è la padella così avete l'idea di entrambi sembra una scema lo so così non avete l'idea una scema praticamente avete anche l'idea di quello che è la grandezza di entrambi ne ho avute due poi c'erano anche le borracce in questo caso c'erano anche comunque le lampade c'era un pochino di roba quindi il mio consiglio è se vi interessa spedite nel mio caso ho dovuto spedire quindi tra l'altro io li ho presi in offerta quindi non è che io li abbia pagati poi più di tanto però vi consiglio se vi interessa il prodotto in più prendeteli ah tra l'altro io sto aspettando le della Molino Bianco ve le farò vedere se vi interessa scrivetelo scrivetemelo nei commenti le borracce della Molino Bianco devono arrivare queste borracce della Molino Bianco che se non ricordo male scada a fine anno con 5 prodotti della Molino Bianco tra le merendine e le focaccelle comunque c'è la grafica di lato nel pacchetto vi danno una borraccia personalizzata col vostro nome andate sull'applicazione della Molino Bianco inserite il codice e quando siete arrivate a 5 vi danno la possibilità di ricevere gratuitamente a casa questa borraccia con il nome io ne ho ordinata una a nome di Francesco e una a nome di Mario sono carine e sono gialle e in più c'è la possibilità di vincere un drone per tutte le specifiche cercate nella mia playlist passi per la spesa perché sono andando indietro mi sto rendendo conto adesso eccomi qua sto andando indietro problemi tecnici teniamolo così per tutte le specifiche che c'è nella mia play space per la spesa cercate quella della Molino Bianco e vi spiego bene come fare questo è il foglio che mi è arrivato che si è che si è ho preso un po' di umidità carissimo vincitore grazie per aver partecipato all'operazione premi indetta dalla non lo so dire la mia macchina la mia macchinetta quella della profumazione l'airwick in questo caso è lo stampo da crostata questo è uguale per tutti so che non si leggerà mai magari un attimino si legge quindi consiglio mio se volete e vi interessa il prodotto ovviamente andate a prendere il prodotto e tranquilli che vi arriva non vi arriva magari subitissimo vi arriva magari un attimino più in là col tempo ma vi arriva vi ho dato degli esempi vi farò vedere se vi interessa la borraccia e il mio video finisce qui ringrazio tutti gli iscritti nuovi e quelli vecchi benvenuti ai nuovi che non ho detto scusatemi se avete qualsiasi tipo di domanda scrivetemelo pure nei commenti che a me fa sempre molto piacere leggere i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video se non siete iscritti cosa aspettate iscrivetevi così non perdete nessuno delle nostre bellissime imprese sempre un po' cattivella va bene non lo sono per niente vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao